Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Tornano i topi di biblioteca, quindi le recensioni dei libri che leggo e come vi avevo anticipato nel video dei buoni propositi ho intenzione di modificare un po' questa rubrica, quindi di inserire delle recensioni di libri che c'entrano un pochino con il tema del canale, quindi con il viaggio. Come avete letto dal titolo, in questo caso si parla del libro che ha ispirato anche il film Into the Wild e il titolo in italiano è Nelle terre estreme. Non ce l'ho fisicamente qui, nel senso che l'ho letto in parte tramite il prestito in biblioteca e in parte sul mio nuovo Kobo che volevo provare. Se volete saperne di più vi lascio i link in descrizione per dare un'occhiata su Amazon. Bando alle ciance però cominciò subito appunto a parlarvi un pochino del libro. Considerate che non è un'opera autobiografica, non è indirettamente il nostro protagonista Alexander Supertramp ovvero Chris McCandless che scrive, ci sono riportati alcuni brevi passi del suo diario che teneva, ma è essenzialmente un'indagine che fa l'autore su quella che è stata l'ultima avventura di Chris che appunto per due anni ha viaggiato tra gli Stati Uniti e il Messico per poi finire con il ritirarsi in Alaska dove per l'appunto ha trascorso i suoi ultimi quattro metri di vita, quelle che vengono appunto definite le terre estreme usando come rifugio l'autobus a Condonata che è diventato anche molto famoso. Il libro è molto conosciuto anche perché è stato trasposto in film, io l'avevo già guardato anni fa al film ma non avevo mai letto il libro, quindi questa è stata un'ottima occasione per leggersi il libro e successivamente mi sono anche riguardata al film. Il libro nel complesso ovviamente mi è piaciuto, mi piacciono appunto queste storie un pochino venturose. L'unica cosa che non ho capito è stata l'esigenza da parte dell'autore di raccontare anche altre storie simili a quella del protagonista e lo stesso vale anche per le parti in cui appunto vengono raccontate le escursioni e le scale dell'autore. Questo proprio non l'ho capito anche perché appunto spetta un pochino la lettura, spetta un pochino il ritmo narrativo che c'è. E proprio per questo motivo forse questo è uno dei rari casi in cui secondo me il film supera il libro perché appunto il film è molto lineare, appunto non ci sono queste divadazioni inutili, almeno dal mio punto di vista. Per l'appunto questa è un'indagine che svolge l'autore che è principalmente un giornalista che appunto sta indagando su quello che è successo a Chris e Sue e sta cercando di ricostruire quello che è stato il suo percorso, il suo viaggio. Quindi troveremo anche molte testimonianze delle persone che l'hanno incontrato oltre anche ai racconti dei genitori, della sorella principalmente. Quindi appunto come vi ho detto il libro nel complesso mi è piaciuto gli darei un 7 perché appunto ci sono delle cose che non mi sono piaciute ma la suffigenza ce l'ha. Per i film invece un 8, mi è piaciuto molto di più del libro, appunto vi ho detto che è uno dei rari quel film supera il libro almeno per quanto mi riguarda. Io spero che questo video vi sia stato utile, di avermi incuriosito per quanto riguarda questa storia, se appunto non la conoscevate. Se vi è piaciuto lasciate un like, se non siete iscritti iscrivetevi e attivate anche la campanella in modo tale da non perderti i miei futuri video. In descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguite anche al di fuori dei video settimanali e se avete già letto il libro o visto il film fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!